Yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con un nuovo videolotto a questo giro come ogni settimana con un millino di roba a questo giro competitiva detto questo ovviamente ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasy store il miglior negozio del mondo che vende roba nerd carte fanco manga cioè trovate di tutto anche come vi ho già detto la maglia di jumbo drillo quindi ragazzi se volete acquistare da loro e farvi un regalo vi ricordo che passando qua sotto in descrizione tramite il mio referral link e il codice sconto cappello 5 potete ottenere un 5 per cento di sconto su tutto il vostro carrello ovviamente di prodotti non soggetti ad altre offerte inoltre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo andiamo a vedere effettivamente cosa mi arriva o abbiamo tre album e tre deck box belli pieni è di roba molto ma molto interessante ovviamente ragazzi vi ricordo che tutto quello che troveremo qua è in vendita lo troverete sul mio car market che trovate sempre qua sotto in descrizione ma partiamo adesso dal primo deck box e vediamo effettivamente cosa mi ha dato la cosa positiva è che ringrazio il ragazzo ovviamente è che mi ha lasciato pure deck box e album che non è una cosa scontata questi mi torneranno molto ma molto allora andiamo con il primo e abbiamo uuuh roba bestial uuuh mi sa un bel dragon link eh si partiamo con il main lasciamo da parte l'extra per un attimo e vediamo abbiamo regained rocket uuuh saronir bene il bello pure pure secret poi abbiamo bestia marchiata seyfert un altro saronir bene ash da mp peccato poteva essere da macro poteva essere bella interessante golosa poi abbiamo dragon metallico un altro seyrat in imperma che mi sa che american quindi molto bellino mi sa che c'è un playset poi vabbè uno per uno da amde un'altra ash un'altra in perma anche questa american poi drago metallico scuro acchi rossi questo bellino per i retro format noctovisione quick launch vi racconto una storia allora il ragazzo mi aveva proposto queste carte cioè non è che non aveva accettato ma ci doveva pensare così nel frattempo è stata annunciata la reprint di questo e di tanta altra roba che troveremo all'interno di tutto il lotto quindi a un certo punto dopo due settimane mi scrive oh guarda accetto l'offerta io gli dico guarda devo un attimo rifare le valutazioni perché qua i soldi sono partiti e fortunatamente qualcosa era sceso qualcosa era salito quindi nel pratico sono riuscito a lasciargli la stessa offerta anche perché comunque sono carte belline quindi ci sta anche allora abbiamo le vianir vabbè quick launcher ne troveremo altri due da qualche parte poi pazzo del caos druiswurm mamma mia quanto è bello ragazzi druiswurm best 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 bestial raro mp23 è incredibile vabbè terza in perma ash ttt poi un altro altri due draghi metallici accensione settore di avvio che se non ricordo male anche questa è stata reprintata in battle of legend poi lubelion che ne ho già altri tre stanno su car market sempre qua sopra vabbè abbiamo saroni oppure se non mi trovate e scrivete kaiba corp store nella ricerca utenti e mi trovate subito abbiamo rocket un altro druiswurm foro magnamut che sta a uno ma vabbè poi launcher rocket recharger con la serpente caliber gola drago secret bellino un altro 3 lubelion abbiamo white dragon e absoluter ok onesto poi tutto double slivato adesso c'è pure le sliv belle forse prima di venderlo boh mi ci faccio due partite adesso vediamo se riesco ad andare a un local sarebbe una cosa incredibile allora poi abbiamo l'extra con delle oversleeve veramente fighe tanta roba abbiamo drago assaltatore romulus anche questo è questo è da mp20 si mamma mia sono un fenomeno little knight visto che il mio ce l'ha ancora francesco e non me l'ha ancora ridato e non mi sta rispondendo dovrebbe essere un problema fra se stai vedendo questo video rivoglio la mia sp grazie perché è quella che ho sbustato poi abbiamo drago triple esplosione anche questa reprintata mi sembra poi vabbè pisti access code ragazzi questo stava a 30 poi a un certo punto se voi guardate il grafico di car market c'è un crollo incredibile appena è stato annunciato nella rarity 2 poi abbiamo sigillo hieratico vorland arci demon drago rosso luce sfregio da dude calber carica che è risalito questo risale ogni volta ma vabbè poi barone anche questo da rarity proprio versione economica this pattern anche questo molto carino da chiac angelo del caos anche questa altra carta che si è presa l'inculata perché sì non è che ha avuto una reprint incredibile fenomenale che riduce il prezzo però nel senso perché dovrei pagare questa 60 quando a 50 c'è quella ultimate quindi ovviamente questa è scesa a 30 wow bene poi abbiamo atom e uh anche typhoon bellissimo che prende il cazzo da zeus da come abbiamo visto nel video di konami poi andiamo adesso con la side abbiamo un nibiru american un altro nibiru american un altro nibiru american perché almeno non abbiamo un bel play set poi spolverino richiamato dalla tomba cambia idea un lightning storm penso ci sia un altro sì ovviamente strike uno due e sì e tre strike abbastanza tranquilla come side niente di incredibile e un resto secondo me siamo partiti veramente hard adesso speriamo di trovare altrettanta roba buona perché ok sì l'ho comprato ho fatto la valutazione ma diciamo che non ricordo assolutamente niente di quello che ho comprato perché la valutazione l'ho fatta credo oramai 20 giorni fa allora andiamo con il secondo abbiamo anche un dadino qua vedo un abc e vediamo abbiamo un dado onesto niente di particolare andiamo con il mazzo vediamo effettivamente qua cosa c'è andiamo con il main abbiamo guardate che bello ragazzi tutto secret questo è un sogno che si avvera ma anche se ce l'avevo poi l'ho regalata a francesco ma vabbè questa è un'altra storia allora abbiamo draghetto palistico viverna combattente in un paio revolution singro che me l'aveva chiesto era qualcuno che me l'aveva chiesto e ho detto non ce l'ho ecco guardate che bello uno due e tre poi abbiamo hangar union anche questa secret poi abbiamo uno due e tre ho anche erion bellissimi peccato che sono da mp poi disco lo seo in tre per ingranaggio messa a punto va bene pilota unione distrudo super bellissimo questo vi vede poco eh perché sono sleeve di merda opache però è super raro guardate che carino poi tuning che attualmente hanno annunciato un artwork alternativo che si dovrebbe trovare all'interno nel set giapponese tipo rarity collection qualcosa unity che è viola l'abbiamo visto la scorsa settimana in live quindi nel caso recuperatevi la live poi vabbè sono due tuning pod of desire american anche questa della rarity bellissima ne abbiamo una due e tre poi ash blossom anche questa oh sono contento questa me l'ha messa in ordine drol che ovviamente avrà sette rarità differenti a breve peccato anche se quello secret me gasa un botto allora ne abbiamo tre un altro play set in perma perché ovviamente i mazzi sono differenti poi riattivazione non autorizzata ragazzi questa dovrebbe uscire da structure cs r10 che costa un po' costa tipo 6 euro una roba del genere tra che il set fa talmente schifo il mazzo che devono compensare con qualcosa beh abbiamo trovato le altre due trust che è mancato si tra sarebbe bello invece un play set the trust no quelle sono un bellissimo play set di talento vabbè andiamo avanti ovviamente ragazzi qua non ci sarà la seconda sp sfortunatamente ma abbiamo uno due due draghi ballistici secret ok poi l'antico drago fatale drago berserk del teni anche questo bellissimo anche se c'è la reprint da vasmo o drago sincora cristallo quanto è bello comunque ragazzi sono incredibile se oversleave queste me le tengo vabbè almeno così non le compro drago rosa nera dark ragazzi troppo bello dark poi cavaliere incubo unicorno secret incubo fenice uh questo american bellino poi vabbè abbiamo mascherena che anche questa c'è la reprint la pollusa anche questa bellina ma c'è la reprint che anche questa la faranno secret da rari vabbè era scontro ragazzi toccava tanto ogni staple che conosciamo che non c'è una reprint probabilmente starà lì dentro abbiamo dueller carino e basta e poi altri tre nibiru a caso american vabbè ragazzi chi vuole un play set è disponibile ma è tutto disponibile fermi ragazzi so che questo video vi sta prendendo vi piace cioè che io spenda soldi vi fa solo che piacere vi ricordo che se volete supportare questo canale a parte che trovate twitch in descrizione perché li streamiamo due sere a settimana ma un'altra cosa molto importante che potete fare è mettere mi piace commentare e scrivervi a voi non cambia niente non spendete un euro e a me date un supporto enorme perché permettete a questi video grazie all'algoritmo di girare e farli vedere a tutta la commenta quindi grazie mille a chi lo farà e vi lascio a continuo perché ragazzi c'è roba c'è tanta roba da vedere ancora passiamo adesso al terzo tech box quello bello quello che sarà il mio visto che quell'altro mi è stato rubato quello storico nooo ma che tocco di classe ma di che marca è ma voglio saperlo questo sarà il mio tech box qua ci sarà il mio bel mazzo got e qua ci sarà il mio bel mazzo standard che mi comprerò quando deciderò di prenderlo perché riesco a giocare oppure qua ci sarà il mio bel mazzo got e qua ci sarà il mio bel mazzo edison bar 10 ok qua non ci sono soldi andiamo con quello che credo sia tribligate no tribligate fire king abbiamo questo incredibile kit una due tre onesto poi nooo ma sono bellissimi fractal americani mamma mia che belli va bene uno due e tre poi abbiamo nerva che era anche questo american un altro nerva rivolta questa da rarity vabbè ce ne ho tipo 72 copie versione mp21 se non ricordo male può essere vabbè abbiamo un po' di roba fire king penso questa sia tutta roba dello strutturo non ci sia altro un due re sì sì tutta roba dello strutturo vabbè roba che c'avevo comunque considerando i tribligi non credo mi usciranno tre wanted adesso eh guarda un po' non credo no thank you wow avrei preferito quella figa altri ash blossom perché sì altri droll sì corvo che secondo me sta anche questo all'interno della rarity non mi sembra ci sia stato l'annuncio ma ce lo credo e poi altre tre imperma perché sì bene 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 qua qui la roba carina era il reparto tribligi perché il resto è tutta roba che già avevo vediamo l'extra e qua a parte la roba structure ci dovrebbero essere un paio di cartine belle e oneste eh date un po' uno due oh quanto è bello shurag secret che roba spaziale un po' bella guardate cartone incredibile uno due uuuh mamma mia ferricite e ragazzi abbiamo fatto la tier list no la tier list ufu con le waifu di yugi e secondo me non dico che lei doveva vince ma lei si doveva pensare almeno seconda seconda o terza vabbè abbiamo sfrenata furiosa ovviamente sotto le live twin incredibili eh vabbè anima abbandonata che anche questo sta 7 euro mascherena anche questa american diviete poco ma dovrebbe essere american bellina poi abbiamo ita palamagna al mirage poi lucert e l'incuribo che secondo me anche questo american è una rara vedrò sempre american dopo quando toglierò tutte le sleeve vedrò meglio e vi farò sapere o lo troverete caricato sul market come american incredibile allora allora abbiamo un altro mazzo ma che mazzo è questo vediamo ho visto un exiton quindi non ne ho la più palida idea tiriamo fuori vabbè questa è una sleeve a caso togliamola ah ok questo è il mazzo più potente del mondo il mazzo delle bimbe pianta abbiamo ovviamente questa penso sia boh la settima prosperità che trovo buco trappola chiusi secret questo ragazzo c'era andato giù pesante però boh queste rare queste rare a questo punto nel senso poteva fa qualcosa di meglio eh mantis ci sta super vabbè queste rush common va bene questa non mi piace questa è ok queste super uh bello 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 quanto è bello ferri eh si considerando che la prima stampa da double c'ha un tipo un chilo e mezzo di silvering sopra diciamo che questa versione è un po' migliore eh un po' tanto migliore è migliore basta poi abbiamo vescicolo parallel american così avrò il terzo perché non mi è stato disinvestituito poi abbiamo già della prosperità vicolutea ragazzi non so qua cioè non è che mi faccio fregare le carte apposta ma è francesco mi dite verità sennò va da casa sua il parallel ci sono state delle cose dietro vabbè poi il meleo il secondo parallel probabilmente avrò un altro per i setti parallel secret si 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 secret american bello mamma mia quanto è bello ferri poi abbiamo lo scavatombe mantis i cavalieri fantasma tra pole un altro parallel 15 e no 5 non ci avrò mai due playset completi dovrò vivere con questa agonia in corpo vabbè poi arachno campa beh questi sono contento che questi abbia realizzati perché ultra da mp e da l'espansione non me la ricordo però ricordo di averla sbussata di spagnolo è una merda è totalmente una merda perché si rovinano solo a guardarle poi andiamo con l'ultimo abbiamo l'ultimo abbiamo andiamo con l'extra abbiamo un token di yugi vabbè ci può stare poi abbiamo le sera che non riusciò mai ad avercene secret di nuovo pinguicola rafflesia da mp un'altra rafflesia da mp exiton anche questo ristampato uh si si questo è bellissimo questo mi ricorda quello che mi hanno rubato non era american ma era carino eh questo stava all'interno del mazzo in traptrix ah poi abbiamo abitante dell'abisso diamond anche questo american si sembra che si forse si vede bene si credo sia american poi ptolemaius deus da blmr poi durendal bagusca e basta finito bene bene i deckbox hanno dato enormi enormi soddisfazioni andiamo adesso con il primo album e vediamo effettivamente cosa c'è qua dentro dai sono un curioso che non ricordo più niente abbiamo un baldrick che boh potrebbe essere carino poi vabbè un corvo qua shifter tutta roba di poco conto poi un paio di nibiru ci stanno stanno a 2 euro l'una queste non credo ci siano le wanted boh questa common queste giapponesi un paio di mobius carini due zarborg della gold no dl 09 questi simpatici poi mind control jinzo da mifi ma che abbia un gran valore poi ora ragionando a edarari ti usciva super poi vabbè tre carte spazzatura oramai due non più sovrano scuro capro rage ecchi e il terzo non più sovrano scuro in una realtà differente da quella di prima per non darmi ovviamente un playset poi poi abbiamo vabbè fosse il dig american non lo capisco non mi sembra no non è america poi abbiamo un altro non più sovrano scuro sempre ultra così ho due due per fare persone non è poi già desideri già della prodigalità il flauto qua un po triste un album un po tristino vabbè non più a questo è l'art guardate ragazzi questo è l'arte in modo tale proprio da non avere un playset completo ma tre playset totalmente differenti o incredibile proprio quello è quello che di cui avevo bisogno poi vabbè abbiamo z colpo che non so se sta a un euro poi vabbè comparso spada anima da mamma rai jacky boh un po triste un drago vabbè secret da rari di questo se fa niente cioè se fa il caffè se fosse una carta decente ma non fa neanche quello non fa no non fa neanche quello allora vabbè forse la carta più bella è questo artillery c'è posso sta considerando i mazzi c'è posso sta andiamo adesso con il secondo da andiamo con questo e ce voglio crede è bello grosso ciotto già già partiamo meglio abbiamo questa clara che sta qualcosina mi sembra fosse spai cata se non ricordo male non so se sta più a qualcosa poi a blu balena e si giocava in fire king snake eyes mi sembra vabbè qualcosa coi fuoco che è simpatico forse sta ancora un euro poi abbiamo qua trisciula le carino che rubino super ma vabbè tutta roba da raditi poi altra roba da raditi qua un drago selvaggio calibro spada che è onesto l'araldo questo american cavolo questo non l'avevo visto bello potente molto simpatico dai mi piace è un bellotto cioè ha avuto senso all'acquisto glielo pagato un po di più rispetto al normale ma ci sta alla fine con cartine belline che comunque si dovrebbero rivendere abbiamo sheen la downer poi un altro 106 a queste darali l'hanno ristampato sfortunatamente legge oscura e poi un bello questo bello bello da op american questo è un gioco io abbiamo borea american retur secret non la tour bella ma la tour brutta perché non è da espansione vecchia però il senso almeno queste sono anni m rispetto alle mie poi vabbè congegno d'oro abbiamo gli alberelli qua palesemente usciti da un film della disney poi un flamberga unica carta insieme a questi questi che vedremo di snake eyes niente wanted sfortunatamente ok con cose che capitano poi abbiamo questo blue eyes shining questo mi sa che va in collezione perché in inglese dimmi che condizioni perfette per favore dai preso condizioni perfette ragazzi questo non si vende sfortunatamente mi spiace sarà solo per me poi abbiamo un curibo da structure bello questo da yoke da yoke falso da yoke reprint però comunque però comunque diciamo che fa il suo non lo disdegniamo poi ovviamente qua abbiamo tre shifter potentissimi guardate che belli questi bannano tutto poi un paio cyber draghi quarter andando avanti abbiamo anche un bel play set di moglie bellini e altri due regolus un borea stanno qua giù poi poi altra roba coreana un galaxy soldier dopo americano poi poi va le incanalatrici però ovviamente questi hanno ammazzato il prezzo della mia un po tutto il reparto dei pancre che ovviamente questi stanno tre perché sono ultra continuerò a dirlo perché tanto ho detto la cazzata e me l'ha rinfacciato ogni volta poi roba vanquish che non si vende roba orus carina questa in seti che sta tipo a 40 un pochino scesa poi vabbè un nibiru poi poi abbiamo un altro paio di corvi che così abbiamo il play set con prima bocciolo vabbè bella marta qua ultra veiler secret ah lancea una collector e una secret carine tutta la roba da rarity che merda che merda ho venduto il terzo che non era di qua era uno mio quindi non ho il play set però abbiamo una gocciolina per vita qua potente poi no ragazzi è proprio cioè abbiamo trovato questa che è secret e questa che è quarter ergo abbiamo cinque versioni di non più sovrano scuro nessuna con play set completo grande grande la vita mi sorride ogni tanto anche ovviamente goccioline play set spaiato non è possibile avere stesso play set un rito carino questo ci sta l'enchantress è una delle wifi più potenti dell'universo poi vabbè alte scavi fossili upstar fulmine poi poi ah bello questo bello 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 queste sono proprio belle sono america il problema è che non so se sono state ristampate o è in inglese e in italiano che costano un botto però sono veramente belle artwork incredibile rarità incredibile sono proprio sono proprio soddisfatto perché ogni tanto mi arrivano lotti un po con poche carte questo è proprio bello ciotto mi da gusto sfogliarmelo tutto bene 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 poi abbiamo la trappolatrice il virus questo gold bello questo dovrebbe essere il simbolo della morte tipo più o meno no il simbolo il kanji della morte e per concludere basta questo è quello che avevamo nell'album delle trappole slash mostri e un po' di magia e andiamo adesso con l'ultimo questo quello col curivo io odio questi album perché si sfasciano subito anche se comunque questo è tenuto bene forse se li trattate bene ragazzi non si rompono ma io sono un cane e li distruggo sempre quindi preferisco questi dell'ultimo che mi durano una vita vabbè qua abbiamo un po' di link generici niente di particolare c'è questo shaman del teni poi vabbè selene qua secret poi vediamo tra i sincro forse qua uh turbo warrior secret bello questo molto carino poi abbiamo goi orcher rottama anche questo per il retro format o dino secret poi vabbè cosa è caso questo quarter ma tanto non stancazzo questo è secret bello questo è bellino poi jimmy american tre stardust in tre versioni differenti anche la rosa bella quarter carina un barone american anche questo xaber gotham questa carina per il retro format e tutta roba che nel pratico ci sta niente di enorme valore però è tutta roba pseudonesta anche questa formula sincro questa rimane a me questa già lo so che rimane a me eh sì sì questa 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 rimane a me questa rimane il mio mazzo eh vabbè forse è più la roba che rimane a me che quella che vendo ragazzi no aspetta non credo però ok questo ha visto momenti migliori questo drago all'inere ha un paio di sbeccature però ci posso stare ci posso stare andiamo avanti eh abbiamo un altro savage secret da rarity onestissimo poi geargentix secret no da ct eh secret sarebbe stato bello ma questa è la versione da poveri poi abbiamo uh numero 38 hop bello anche questo american redower quarter anche questo carino poi vabbè le ultimate terribili che non esistono nella mia concezione di realtà di yugi poi merry maker e sargas abbiamo qua poi poi ok abbiamo finito e per concludere abbiamo credo solo le fusioni abbiamo vabbè questo jama king che fa il chad qua su in alto poi equiste che espansione a ghost from the past è vero era stato ristampato poi abbiamo garura qua roba normale roba normale questo è sempre della rarity ulti a pelio poi vabbè questa è roba normale è roba normale non volevo finire con una bomba finale incredibile che non mi sarei mai aspettato di vedere però nel senso chi so io per non acquistare questa roba sinceramente sono contento sono contento perché la cifra propagata è giusta da quello che vale perché ne sai qua se trovavo qualcosa sminchiato però è tutta roba messa bene e ringrazio il ragazzo per avermi dato questa roba dopo se gli serve qualcosa mi scrivesse cioè per il retro format perché adesso si è dato a got quindi nel senso se gli serve qualcosa mi scrivesse bene bene sono molto contento dai adesso a breve appena ho un minuto di tempo carico tutto sul mare ci vorrà un po' la roba è tanta ce la posso fare detto questo ragazzi fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate dell'acquisto se è stato un acquisto giusto o un acquisto sbagliato comunque all'incirca dovrebbe valere una millata quello che ho preso un pochino di meno diciamo 960 ma scriverò 1000 sul titolo per fare cifra tonde è così la vita va così bisogna per forza trovare un modo per fare video detto questo ragazzi voi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti